Salve a tutti amici e ben trovati, sono Smith Terry ed eccoci qui per un nuovo episodio di Life is Strange Before the Storm. Sono qui donati con Chloe e per non di continuare l'avventura di Enna. Alla bassa un po' volume, allora per oggi prima volta useremo il gioia di prof. Sardegna Monster Steer e che vogliamo provare un po' la differenza che c'è fra il Monster Steer e il Bud. Continuiamo la nostra storia e inferno nel vuoto il terzo episodio di Life is Strange Before the Storm. Vi sapete cosa accadrà alla coppia più pazza del cerco del Rage ma per scoprirlo poi stanno avanti, quindi bando alle ciance e che invece vi inizio, let's go! Vi sapete cosa accadrà alla coppia più pazza del cerco 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 del cerco. Vi sapete cosa accadrà alla coppia più pazza del cerco 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 Lei ha fatto una cirurgia, e ora sta restando. Chloe, cosa è successo? È la mia scuola. Mi dovrebbe ascoltarti a te. Sara è... ...missata in un modo con questo... ...psico... ...Damon Merrick. I know exactly who Damon Merrick is. Start over, and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sara? I'm not going to chastise or blame you, Chloe. But I need the whole story. So, I got my dealer to meet us, since he knows Sara. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? I think he wanted to scare us, so he'd stop asking questions about his business. Is that how it became violent? When he found out Rachel was the DA's daughter, he wanted information about you. And how did he know that I'm her father? I... I called her Rachel. And he figured it out from there. It's not your fault. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something. But... When he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off, so we could get to the truck. I heard a scream. But I don't know what happened. And then... We were here. I appreciate you telling me the truth. I'll see if I can pull some strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. What if Rachel still wants to meet Sarah? After all this... I'm hoping she'll finally see reason. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have... Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Thanks. I'll let you know when she's going to be okay. Hey. Steph. How's Mikey? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. I don't think I can sit still any longer. Maybe I can sit still and stretch my legs while I'm waiting for my children to get up. Rati è stata ferita, ecco, ovviamente si sente in colpa. E soprattutto il palo è stato molto bravo, ho visto perché ha cercato proprio di fermarci, di farla calmare, di dire a una coppa sua. Quindi è una coppa sua e Seda è che attira persone non tanto raccomandabili, diciamo così. E la paura ho avuto con il momento è più che accettabile da una ragazza vedere uno con un coltello, quasi persona. Ho avuto paura. Mano, jackpot. Eh, che fortuna che c'è, dai una bot. Dai, tu. Scusi. Mi sembra una cosa. Che possiamo fare? C'è lei lì. Dunque, è normale avere un po' paura. E invece un po' si è messa anche un po' nei guai, dicevo. I cittadini di Arcadia Bay non si sentono così generosi. Eh sì, c'è proprio un po' di... Tutti i costi a pelli di sua madre, anche se è questo vuol dire, parla con una persona, diciamo, di mollirmi a una persona normale. Che è questo? Che parto? Che parto? Oddio. Ah, quello del vino. Vabbè, così arriva. Ma veramente. Non ci posso credere. Ah, vabbè, se vedi come si... è molto bella, la storia di Life is French. E questo non pre, è quello il principale. Eh, lo so. Eh sì, Frank ci ha salvato, Frank. E cosa per Damo? E... è... Diciamo che a fine sappiamo che Damo potrebbe cercare ancora Rachel per suo padre. Essere sempre quel fantasma che un po' porta, diciamo, un po' di... problemi. Scusi. Oh, la cata è questa cosa incredibile, oh eh, lì sdraiato. E' un'altra botta, tanto, ma tu ce l'ho visto Oh, eh, mangiamo Eh dai, a me è un po' di fortuna la nostra Chloe Sai quanto è qualcosa di lì da mesi? Lei mangia con tranquillità Eh, se non butto la terra E' un momento di nevosi molto e cioccolato Può rivi essere ragazze Non esagerando Lui è il padre Anthony North, cartello Ok, parliamo con lui, il signor Anthony North Salve Ah, che bello uomo Che bella voce che c'è Ups and downs in questo caso E' vero, ovviamente. Ma i doktori dicono che si deve curare molto rapido. E Drew? E magari hai sentito, è tutto setto per andare a Oregon State. Un'altra ride per 4 anni. E'... E' fantastico. E' vero. Dicevi che eri Chloe. Mikey ha ti ha parlato qualche volta. Ho una domanda che magari puoi rispondere. Sì. O mi conosce ora. Oltre a tutti questi ragazzi hanno stato attaccato un po'... ... beh... ... giusti. L'ultimo. Sì. Ho spentato la maggior parte della mia vita cercando di lavoro. E' preoccupato. Ho perduto qualcosa di importante. E' vero se c'è qualcosa che sta succedendo con loro? Ehm... Ehm... Di riusciare a stare perchè Joseph ha messo buone guai. Ehm... No. Vabbè non che sì. Ehm... Ma io ho visto bene. Oooo... Ehm... 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 E' ancora, a favore vuoi? Ok Ma è che non è il lavoro Comunque si, se noi non interveniamo per salvare il ruolo, per dare soldi a questo Dimo Sai cosa gli avrebbe fatto? Può essere anche gli specaf... gli rompere il braccio e quelle collage col cavolo Steph c'è scritto Ok, un altro sto manendo Un po' di calma Vediamo un po' Non c'è niente di nuovo qui Vediamo le foto, qui tutto ne ho sbloccato direi Molto bene E in Instagram ne sono già scritto C'è il troppo che ci cerca Max, aspetta Ma forse è lei che scrive a Max, come capitava infatti E' bene, in temore Faccio un mago Che poi siamo in braccio con una spintanella C'è la città Hey, hai fatto Ciao Chloe Hai, che cosa è la città, Mikey? E' la città Si, mi piace la città E' la città E' rotto proprio? No Ah non so niente Eh ora capisci che prego questo Eh sì No F*** that guy It wasn't because of me Was it? I'm just so pretty No Not at all If anything I I should have thought about what happened with you guys Before getting Rachel involved That's crazy The whole thing makes me want to just I swear If I ever meet that shithead I'm gonna What are you gonna do when you meet Damon Mary? Something terrible I am Like Challenge him to a karaoke battle Yeah That's how we settle things on the street Okay Throw dice at him Criticize his taste in film Okay Tell him about a band he's probably never heard of But should have Enough I don't know I don't know We're glad that Rachel is okay Oh You should hang out here until she wake up Rachel's gonna be up soon Should probably head over when I'm ready Look at that Wells being nice for a change If he's entering into a cartoon contest I hope he wins Belli cose Noi siamo qui per guardare le loro cose Oh man Did I miss the robot visit? Okay Porta No Guardiamo Quelli sono tranquilli A kiss from Beautiful woman Stai giocando Stai giocando Cioè il ruolo Fiori Sì Oh Those must be from Steph's parents Uuuuh Finiamo il gesto Da ci sta Hey Can I sign your cast? Yeah Definitely Hmm Something Nerd But Not too Nerd Braccio Armatura Dai Un'armatura Bello Ovunque There you go Coo Uuuuh I barely knew Mikey two days ago And now I feel Kind of protective Eh si Come cambia le cose Steph E Drew Si Farei con loro What are you guys Doing I Thought you Never ask I had to hide our game from the nurse She thinks it's negatively affecting my mood Elemon's backed himself into a pretty tight spot this time He Might not make it She can join Ellemon in battle Maybe the two of us together No di nuovo no Prendiamo l'altra mezzo di video You're into this nerd shit too E' un gioco in cui vado se faccio una cosa stessa e si tratta come una malattia. Quindi, sì. Mi piace essere un giro di giro, ma sono sicuro che il personaggio di Chloe è morto l'ultima volta. Oh no! Aspetta un secco. Non avevi l'esercito di reincarnazione nel tuo inventario? Sì, certo. Sì. Tuttavia avevo l'esercito. Oh no! Quindi tu puoi iniziare e salvare la mia assia? Che dici? Eh, magari dopo. Ok. Devo sapere quando. Ok, andiamo. Ehi. Aspetta un secco. C'era la caramella? C'era una cosa che mi sento angolo a te a mattina. C'era l'argento. E tu stessi cercando di aiutare. Eh, non preoccuparti. E' una storia di distanza che l'ho salvato. Scusate. E' una situazione davvero difficile. Una situazione che ho creato. Eh, sì. Per te non guardassi negli occhi, tutti i timidi, tutte le scienziate. anderi, buone hot comedy, excuse me. Bye Chloe. anche con bel pigiamino a pois. MARRIA. La vita è il un gesto di...! ышoi regali. наamas ! Restabile이드 иногда. Emo ci Jazzchi... dovreste ci RIC. Ok. Dove sta? Dai su, muoviti. Hey. Pompieri. Eh sì Altro posto E qua c'è lei Rose Oh Kawaii Rose Che ammazzo Ah ok Dovamo sammazzarci Oh Yeah It's It's not a big deal It's a little bad Rachel loves it I can't imagine What I would do if we lost her Da andrà tutto bene I'm sure everything's going to be fine Se no poi troppo This He's so strong in crisis You know My dad was like that I'm sure he was Just like his daughter Oh Non sono così sicura I don't know about that You saved her Didn't you When everything happened I just I froze up That you were there for her When she needed you That's what matters I'm so glad you and Rachel Have found each other Oh Oh You need someone who changes everything You just know Wow Hang in there This is Amber Who's going to know This is Amber Okay Hey You need someone who changes my life Would you mind No Why my son I have been assigned to you I never authorized that he be seen But I was assigned to because Nathan was becoming quite upset Because my son was upset Ah, però è scrottamente un pezzo di fango doloroso, mamma mia. Guarda la standa, ti scusi? Ah, ok. Andiamo, dai. Tad, sono felice che sei qui. Me, too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back. In a little while. My guardian angel. I saw Steph earlier. She says, hey. Steph's so cute. But not as cute as you. Stop. Eh, ma qui c'è un corteggiamento. Signora Rachel. Eh, sta manco. C'è un po' di... Si, dipende almeno. Poi ci pensiamo. Rachel. Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. Non farlo mai più, troppo così pezza. Cominciamo così, no? E qua c'è il quest. No. Attacca a Seiko with a 2x4. That was crazy. Newsflash, Chloe. I'm a little crazy. Eh, ho visto, ho visto. Crazy hot. Happy that your dad's here. I mean... I'm still mad at him. For everything he's done. Ma? It felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like, on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah. My mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But... I think I still want to meet her. Ma questa è pazza proprio, dai. Cioè, per poco moriva. Raccamente lei. Si immischia con gente... Poco raccomandabile. Ma non avevo dubbi. E non sei proprio sicura. Are you sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. I am sure. Moriremo insieme, dai. E non è quello di questo male naturale, però... è ancora più c'è. E non è ancora in Arcaglia Bay. ma se si è potete trovare l'ho, per favore ti voglio davvero questo ti voglio? i do, chloe i davvero i do poi, ovviamente whatever it takes i potete trovare l'ho, magari in his office purè il codice è 0722 c'è cosa ci ho metto anche nei guai lei l'ha cambiato e poi non ti ho detto come f***a sei tanto grazie chloe per tutto 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 si ma io non riesco di morire ma ok ti stacca il figlio adesso giudizio naturale però vedi tuo padre dice che è pericolosa tu vuoi rischiare anche la vita solo per chiedere di lei E tu che fai? Dice la tua mia amica, vai a cercare Fai le frazioni in ufficio di mio padre Fatti restare così Ok Bello quel monitor Se vuoi un foglio con dei numeri Però si muove almeno E sto per girare a qua Impressionante E mo che faccio? Eee Hey Elliot Eee Wait Your hair it's different Eee Yeah Yeah Eee It's nice I like your shirt too You never told me you're into cars Yes you don't know everything about me Sorry Sorry I bailed on seeing the Tempest with you The whole thing just sort of Happened No 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 problem at all So what's going on with you L'avete anche lui in perico Gisto I don't even know where to start Ok though Well That's good I guess I'll stop by After I see Mikey Ah e qui è Mikey Guarda che cuccia ha detto Oh Certo E tu chi se ne è che conosce Scusami E perché perché ti piace la verità Ti tengo aggiornato Are you That's all right What's up That works Ovviamente, qualcosa sta succedendo. Spero, man. Tutto è davvero bene. Ok. Ok, ti credo. Ma ti seguirò ovunque tu andrai. Ok. Se tu... Tadena necessitai qualcosa. Grazie. In ogni modo... Vi vediamo qui. Vi vediamo qui, Chloe. Ci piace proprio a... Elliot. È l'unico preoccupatino. Guarda come... Che faccia da Candy, Barbie, proprio... Questo... Dai che sbaglia tasto, ok. L'unico se sta, guarda. Voi innamorato fra di ciò, proprio, raga. Lei che qua diventa preoccupati. E non ti vedo in dubbio di dire... Lo faccio bene o no cercare quella sera? Che anche il giorno di sera non si può... Cavolata. Va bene. Ok, ragazzi. Per oggi, fino a qui. L'episodio di oggi. Come vediamo, si è visto un po' gioc... Cioè, non c'era già contato tanto oggi questo episodio. Perché sono molto scene... In cui poi si vedeva i sentimenti di... Di... Di Chloe. Che è preoccupatissima. E ne sente in colpa. Un padre che rassicura tutto. Lui è un po' molto forte. Ma ovviamente ancora Racer. Vuole della sua madre. Ci può stare. Si può capire che è sua madre naturale. O anche se a me sapete chi è lei. Che conosce. Magari hanno così in comune. Però... Ha visto i rischi che ti sono in ballo. Anche adesso con cui sta lei. Che frequenta. Sono molto pericoloso. Però... Ormai Chloe è innamoratissima. E se era sexy quando era... Pazzo. Pazzo sexy. Certo. Comunque. Fino a qui il episodio di oggi. I video lasciate un like. A commentare. E di la vostra. In questo modo avete fatto. Iscrivete al canale. E attivate le campanelline. C'è le notifiche. I nuovi video che usciranno. E vi ricordo anche. Seguimi su Cane Viola. Lo fai live. E su vari social. Come Facebook e Instagram. Così restate di più sul mio lavoro. E tra questo ragazzi. Al prossimo episodio. Dal prossimo episodio. Ripasso e chiudo. L'escriviti al canale. E qiond'itil. Im'impea. E questi ho avicinati. Cosa senti.